ideata per te ispirata da te è la collezione sposa 2023 di demetrios che trovi a vivo valencia nell'atelier sposa fashion la sposa demetrios incarna tutto ciò che significa essere audaci moderni e divini gli abiti da sposa irradiano un senso di glam morbido combinato con un'inegabile raffinatezza chic ma sexy è impossibile non impazzire per questa lussuosa linea dai leggeri abiti svasati ai sensuali abiti da ballo da principessa alla sexy silhouette trovi le collezioni demetrios da sposa fashion atelier a vivo valencia